E' stato inaugurato all'ospedale di Careggio a Firenze il nuovo CoreLab, primo laboratorio di analisi completamente automatizzato fra i maggiori a livello europeo. All'inaugurazione hanno partecipato il presidente della regione toscana Eugenio Gianni, l'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini e la vicepresidente Stefania Saccardi. La struttura, risultato della gara giudicata da Estar per i laboratori della regione toscana, comporta un investimento di 8 milioni di euro in 5 anni ed è fra le maggiori a livello europeo. Questo è un laboratorio che consentirà anche in quel contesto, che è il contesto dell'emergenza sanitaria, di dare delle risposte. E' una delle varie risposte che ci ha visto impegnati, almeno per quanto mi riguarda, da due mesi da quando sono presidente. Penso e voglio ringraziare come gli operatori di Careggio, a partire dal direttore Rocco D'Amone che è qui, ma poi tutti coloro che in questo settore specifico stanno contribuendo a rendere efficiente Careggio e il sistema sanitario toscano. Ma penso ai 5 mila giovani che in qualche modo hanno collaborato nel momento in cui sono stati assunti, perché questa è la cifra, quest'anno, al nostro sistema sanitario. Un grande avanzamento di natura tecnologica in termini di automazione, digitalizzazione, sicurezza e anche in termini di velocizzazione dei referti che riguardano la cittadinanza. Il sistema automatizzato del CoreLab dell'azienda ospedaliere universitaria di Careggi, determinante anche nella diagnostica a supporto dei percorsi terapeutici per i pazienti Covid, è stato progettato per garantire i massimi standard di sicurezza fin dal momento del prelievo di sangue al piano terreno della struttura. Oggi qui a Careggi abbiamo la prima connessione in posta pneumatica diretta fra il centro prelievi e il laboratorio. Questo vuol dire che le provette non appena prelevate vengono automaticamente e direttamente inviate al laboratorio generale ed entrano immediatamente nel sistema di analisi e non subiscono più alcuna manipolazione da parte dell'operatore fino al termine del percorso analitico, quindi fino alla eliminazione delle provette che avviene in maniera altrettanto robotizzata ed automatizzata. Grazie.